a quattro anni amavo mordere i bicchieri di vetro non proprio un passatempo leggero ma a me piaceva quando siamo piccoli facciamo tutto quello che ci pare sporchiamo dove vogliamo facciamo i disegni sul divano nuovo scriviamo sui muri coi penarelli indenebili imbrattiamo tutto con la pomerola mettendola nel naso nelle orecchie negli occhi e sugli abiti della mamma insomma prendiamo la vita con leggerezza e ci divertiamo con poco e poi quando iniziamo a diventare grandi stai attento che fuori c'è freddo mi raccomando vai piano non uscire con il buio quante volte te l'ho detto e poi dove vai cosa fai beh se queste frasi fossero ripetute una volta ogni tanto non ci sarebbe nulla di male parlerebbero di un genitore che si preoccupa della vita e della sicurezza del proprio figlio il problema sorge quando frasi simile ci vengono ripetute continuamente quasi in maniera ossessiva per esempio la mia nonna toscanaccia mi diceva sempre studia perché sennò i babbo si leva il motorino meno male c'avevo la fermata di tram sotto casa non ti drogare come se tutte le sere uscissi con il figlio di pablo escobar stai attento che ti rubano i sordi ci sono i delinguenti a giro che poi io non dico io no ma ma te che ti hanno rubato i soldi no perché io ascoltavo sempre i consigli della nonna quindi mi chiedo come si fa a crescere con leggerezza con queste frasi continui nell'orecchia a lungo me lo sono chiesto e poi durante un viaggio in ruanda ho conosciuto una persona che mi ha fatto vedere le cose da punti di vista diversi il popolo di ruanda nel 1994 ha subito un genocidio tremendo che ha segnato la storia di questo paese lasciandone i segni ben visibili negli occhi e nelle vite delle persone l'ultimo giorno in albergo o meglio esco dall'albergo e vado a cercare dei dei regali ed acquisto un quadro raffigurante un paesaggio africano da una signora un artigiana di strada oltre al paesaggio mi colpisce il suo sguardo di gratitudine il suo sorriso che avevo già visto in tante altre persone nei giorni precedenti torno in albergo preparo la valigia e mi accorgo che il quadro ha le stesse identiche dimensioni e sicuramente arriverà distrutto allora esco dalla stanza per cercare dello scotch per proteggere gli angoli e incontro un ragazzo che lavora in albergo gli chiedo aiuto e lui che fa torna con quattro fogli di carta lui non sa cos'è lo scotch perché in ruanda lo scotch non c'è allora comunque sia ci diamo da fare insieme sistemiamo il quadro all'interno della valigia e mentre lo osservo dal basso verso l'alto mi colpisce il suo modo di sorridermi allora mi fermo e gli faccio scusa ma ma tu chi sei il suo nome è faustin a 20 anni e quando gli hanno ucciso suo padre ne aveva solo uno e me lo racconta con la stessa luce negli occhi che avevo visto un attimo prima gli dico che anche io da piccolo ho perso mia madre e forse quella è stata la prima volta che con naturalezza l'ho raccontato ad un perfetto estraneo è straordinario come due persone sconosciute possano entrare in empatia così velocemente per un trascorso similare faustina mi stava insegnando qualcosa di magico approcciare alla vita con leggerezza e con il sorriso sempre e comunque quando me ne andai ci salutammo ci abbracciamo e ci scattammo questa fotografia faustina mi disse this is the best day of my life questo è il più bel giorno della mia vita continuo a chiedermi come sia possibile che una persona del genere riesca ad approcciare la vita in una maniera così leggera e mi arriva subito una risposta tanto semplice quanto potente è grazie all'impegno faustina si era impegnato nell'aiutarmi si era impegnato nel farlo bene e soprattutto si stava divertendo con me ho capito quindi che per essere leggeri bisogna impegnarsi anche fisicamente non prendersi troppo sul serio non prendersela per una parola detta male da un'altra persona non lasciarsi trasportare dalla negatività essere leggeri non significa prendere la vita poco seriamente significa scrollarsi di dosso una pesantezza significa essere tolleranti essere generosi saper ridere saper perdonare faustina segue la sua volontà decide come muoversi il mondo va dunque affrontato un approccio leggero e distaccato ma mai privo di concentrazione perché l'arte della leggerezza si impara con l'impegno ed è vero è vero leggeri si nasce ma lo si può anche diventare a sei anni avevo due strade davanti a me lasciarmi trasportare dal dolore della perdita di mia madre oppure imparare a familiarizzare con le mie emozioni grazie a mio padre iniziai a giocare a calcio iniziai la scuola calcio questo sport mi ha insegnato tantissimo il rispetto il gioco di squadra il saper perdere sapere che non puoi raggiungere la vittoria senza impegno e disciplina la disciplina ci rende leggeri lo so lo so la parola disciplina evoca fatica e non ci viene naturale collegarla alla leggerezza invece vi dico che a me è accaduto quando giocavo a calcio la cosa più importante per me non era la vittoria ma uscire dal campo esausto totalmente con la maglia totalmente sudata consapevole di aver dato il massimo poi certamente la vittoria era importante ma non era ciò che mi rendeva totalmente sereno non era quello che mi toglieva il peso delle prestazioni quando sentivo di aver dato il massimo per me e per la squadra ero soddisfatto mi sentivo leggero perché quando si gioca di squadra ci sono dei ruoli da rispettare e tutti si devono impegnare affinché il gioco funzioni e vi posso garantire se qualcuno non lo fa si vede subito ci sono però anche delle regole non scritte il rispetto per l'avversario il rispetto per il compagno di squadra in difficoltà il rispetto per l'allenatore quando un mister parla all'interno dello spogliatoio tutti stanno in silenzio e questo vale non solo per gli adulti ma anche per quelli più piccoli io alleno una squadra di calcio i bambini di 11 anni sono stupendi e quando entriamo in campo ci diamo sempre il 5 in segno di confidenza in segno di amicizia in segno di accordo e poi ci stringiamo in cerchio ci facciamo una promessa divertirci e giocare di squadra perché nello sport proprio come nella vita ci sono delle regole da rispettare e ci viene chiesto di decidere da che parte vogliamo stare dalla parte della correttezza o della scorrettezza dalla parte del rispetto o del non rispetto dalla parte della cura o del disinteresse con il nostro impegno siamo un esempio per gli altri e costruiamo il nostro equilibrio a proposito di equilibrio ho visto una frase su un suo muro di milano che dice è sull'orlo del precipizio che l'equilibrio è massimo a 29 anni mi sentivo realizzato avevo tutto avevo lavoro vivevo da solo avevo le mie amicizie tutto girava alla grande insomma me la divertivo però mi sentivo come su di un orlo di un precipizio sentivo la necessità di buttarmi in qualcosa di nuovo cercavo un nuovo equilibrio e allora che ho fatto ho preso e mi sono buttato e ho acquistato un biglietto di solo andata per la città di new york ora adesso pensate un attimo a new york pensate al suo caos alla mancanza di silenzio al traffico ai clacson alle sirene assurdanti una giungla e non si ferma mai né di giorno né di notte che fa su e giù rapidamente beh sicuramente avete pensato a tutto ma non di certo all'equilibrio davvero ragione perché se vi lasciate trascinare da lei new york vi trascina dove vuole vi porta su su fino al cielo fino a prendere le stelle per un successo per una vittoria ma attenzione perché allo stesso momento quando vuole vi schiaccia riportandovi giù rapidamente per una delusione arrivo a new york e cerco lavoro come barman perché all'epoca era quello che sapevo fare meglio entro in un ristorante segnalato da un mio amico ciao sono mario ciao tu chi sei sono giampaolo sono barman e cerco lavoro salta dietro il bancone fammi vedere come prepari il cocktail martini preparai il mio primo cocktail nella grande mela ero emozionatissimo mario mi disse sei bravo ma giampaolo si vede che non conosci le regole di new york si vede che hai mestiere si vede che metti molto impegno in quello che fai ma ricordati che segui vivere qui devi imparare a gestire le tue emozioni mario paragonava la vita allo skyline di new york ci avete presente che va su e poi giù va su e poi giù come un'altalena e mi diceva sempre se puoi stare qui devi trovare l'equilibrio nel mezzo quel giampaolo di 29 anni ascoltava mario per trovare il suo nuovo equilibrio senza lasciarsi trasportare dalle dagli impulsi dai desideri dagli istinti dal caos e ritmo di quella città vedete ciò che ho imparato da faustina quello che ho appreso dallo sport ciò che una città come new york mi ha insegnato è il camminare in quella linea immaginaria che sta tra la leggerezza e la profondità delle emozioni tra il talento e l'impegno tra i rattacieli e la strada questo per me è il potere dell'equilibrio perché nella vita di tutti i giorni non tutti ci chiedono di raccontare quella storia pesante quella quella che ci stringe il cuore che ceo mastica e non è facile essere nudi essere autentici essere fragili quella storia deve piombare da fuori da un viaggio da un libro da un amico oppure da uno sconosciuto proprio come è successo a me con faustina lui era segnato da un destino complicato eppure cosa ha fatto ha unito la leggerezza all'impegno per trovare il suo equilibrio e alla fine di quest'anno faustin si laureerà in scienze e tecnologie nella città di chigani la capitale del ruanda io da piccolo mordevo i bicchieri di vetro da grande ho capito che con leggerezza impegno ed equilibrio si può mordere la vita